Molte persone fanno davvero molta fatica ad addormentarsi. Il sonno, come tutti sappiamo, è molto importante e soprattutto il riposo durante il sonno è davvero importante. In questo video non desidero spiegarti tutte le motivazioni per le quali si fa fatica ad addormentarsi, ma desidero spiegarti una tecnica che ti aiuti a rilassarti in modo veloce, anzi molto veloce, proprio quando vai a letto. Questa tecnica la puoi utilizzare anche quando ti trovi in una situazione emotiva particolare e negativa, quindi quando sei arrabbiato, quando sei frustrato, quando sei annoiato, quando hai paura. Utilizza questa tecnica e in pochissimi secondi, 60 secondi e anche meno, ti sentirai meglio. Si chiama tecnica 478 e questi numeri rappresentano i secondi di respirazione, di una respirazione che dovrai adottare per mettere in pratica questa tecnica. Molto semplicemente, prima di andare a dormire, quindi quando vai a letto, oppure ripeto, quando sei in una situazione di stress, inspira dal naso per 4 secondi, rimani in apnea per 7 secondi ed espira dalla bocca per 8 secondi. Continua questo processo per qualche ciclo respiratorio fino a che ti sentirai nuovamente calmo e rilassato. Questa tecnica funziona perché permette al tuo corpo di rallentare la frequenza cardiaca e interrompere alle ghiandole surrenali la produzione di adrenalina. Infatti, quando sei arrabbiato, frustrato oppure quando hai paura, il corpo per difesa mette in circolo questo ormone che tutti conosciamo che è l'adrenalina. Il nostro scopo è quello di appunto rallentare la frequenza cardiaca e di interrompere questo rilascio di adrenalina per essere sostituito da altre sostanze che il nostro corpo produce, molto più importanti, che inducono il rilassamento, come per esempio la melatonina. Questa tecnica, come vedi, è davvero molto semplice. Io ti invito a farla immediatamente, a prescindere dal tuo stato emotivo attuale. Quindi, inspira dal naso per 4 secondi, rimani in apnea per 7 secondi ed espira dalla bocca per 8 secondi. Riprova poi questa tecnica questa sera, prima di andare a dormire, anche se solitamente tu riesci facilmente ad addormentarti. Mettila in pratica, osserva il suo... osserva, insomma, che effettivamente funziona e soprattutto ti chiedo di provarla la prossima volta che ti troverai in una condizione di stress. Al di sotto di questo video c'è lo spazio commenti. Per favore, fammi sapere se questo esercizio, se questa tecnica ti è stata utile e i benefici che ti ha portato. Io ti ringrazio di avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Se hai piacere, puoi lasciare il tuo like e scrivere un commento. Vieni a mettere un mi piace alla mia pagina Facebook personale Paolo Babaglioni Coach e iscriviti al canale YouTube blogpositivo.it Pubblicherò lì tutti i nuovi video. Ciao e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao! 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 Ciao!